Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola sull'indice di Milano in due minuti. Settimana molto particolare questa che si è appena conclusa, è partita molto bene lunedì in Gapap, come vedete, si è riportata appena sopra i 23.250, movimento esattamente opposto nella seduta di martedì, poi mercoledì abbiamo avuto una candela con una forte escursione di oltre 500 punti che è andata a segnare e a registrare anche il massimo di settimana, lo vedete, il massimo di settimana è registrato a oltre i 23.350, ma è andata anche vicino a toccare i minimi di settimana a 22.8, minimi che sono stati toccati veramente la seduta di giovedì appena sotto i 22.800 punti. Si era aperto appunto il Gapap, settimana la seduta di mercoledì ha chiuso il Gapap, per cui andiamo a togliere la segnalazione del Gapap. Vi è stata una ripresa giovedì dopo aver toccato i minimi di settimana e vedete venerdì un'altra candela con una fortissima escursione di oltre 400 punti che ha riprovato a riportarsi oltre i 23.250, salvo poi andare a chiudere sotto i 23.000 anche a causa della debolezza di Wall Street, che poi ha recuperato nella seconda parte della seduta, ma ormai i listini europei erano chiusi. Pertanto è probabile che lunedì mattina, anche a seguito dei dati della Cina usciti positivi, potremmo tornare a vedere Piazza Affari sopra i 23.000 punti e potrebbe essere anche l'occasione di tornare sopra i 23.250. Volevamo far notare come questo livello dei 23.250 sia stato una sorta di supporto in questa settimana, vedete tutte le chiusure sono avvenute al di sopra di questo livello e come invece in questa settimana vi sia stato qualche tentativo, ma tutte le chiusure siano poi rimaste al di sotto di questo livello. E' pertanto importante riuscire a rompere questi 23.250 punti e a chiudervi ovviamente al di sopra per puntare a quel punto a tornare verso i 23.500 e poi successivamente a salire. E' rimasta pertanto una settimana molto volatile e a proposito di questo vi ricordiamo che se vi siete avvicinati da poco al trading o avete dubbi e timori causati apposta da questa elevata volatilità ci siamo sempre noi sul canale premium e soprattutto con la chat premium. Nella chat premium siamo sempre online con voi, con gli altri trader che frequentano appunto il nostro canale premium ed è sicuramente un sprint in più per poter seguire i mercati avendo accanto uno staff di persone capaci. Se non si è mai stati abbonati al servizio premium avrete le prime 4 settimane di prova ad un prezzo speciale, naturalmente la chat premium è inclusa e non vi sarà alcun rinnovo automatico. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica.